Ciao, sono Cristiana, sono di Verona. Allora, la mia storia di sapori sono i tortellini. Un piatto in particolare che ho appena assaggiato adesso qui davanti allo stand dei tortellini avesani. Me lo preparava mia madre già da quando ero bambina e questa è la mia storia. Grazie a tutti.